Sono arrivati già da tempo dei soldi per costruire un setto, una scogliera davanti diciamo davanti all'Anfiteatro Rastate ai bagni Maurizio qui a Sassonia, un appalto che abbiamo fatto durante lo scorso anno, abbiamo una ditta vincitrice, intorno al 20 febbraio firmeremo il contratto e dunque potrebbero, ci sono tutte le permesse perché i lavori possono iniziare in primavera e finire prima dell'estate e questo quindi sicuramente è una buona notizia, come una buona notizia il fatto che oltre a questo impegno qui davanti proseguiremo cercando di chiuderemo le scogliere fino al porto di Fano grazie a un ulteriore finanziamento appena arrivato per cui a giorni partirà la gara d'appalto per realizzare altre due scogliere che appunto chiudono tutta la difesa della costa di Sassonia dal valore di un milione per cui l'appalto è in corso, ovviamente noi speriamo di iniziarle prima dell'estate, i tempi tecnici però purtroppo sono molto stretti quindi cercheremo di fare di tutto ma non ci si ferma qui perché recentemente sono arrivati dei soldi che noi pensiamo di destinare alle scogliere di Ponte Sasso perché anche a Ponte Sasso e al sud del Metauro soffrono, le ultime mareggiate di dicembre insomma ce l'hanno anche dimostrato perché lì le scogliere ci sono però sono nel tempo caduti i massi, si sono un po' come dire rotte dalla forza del mare ovviamente quindi lì è prevista una manutenzione straordinaria da fare in due anni, nel 2020 quindi quest'anno nel 2021 grazie ai soldi che la regione Marche ci ha dato per un totale di circa in tutto circa 340 mila euro e dunque sono lavori importanti che serviranno solo per riformare diciamo la forma appunto di queste scogliere. Abbiamo voluto aprire tra virgolette un altro fronte che è quello di dare una spiaggia a Metauriglia quindi sud del Metauro subito sud del fiume Metauro un'importante località nota ovviamente per le sue casette particolari, per i suoi orti di mare ma a cui vogliamo dare uno sviluppo turistico quindi pensare e mettere in campo un progetto in questo caso da 4 milioni e 200 mila euro per proteggere anche quella parte di spiaggia, di ritorale fanese è un progetto molto importante che ci fa vedere un po' il futuro quindi quell'investimento fatto dal comune di Fano ma finanziato dalla regione Marche e dal RFI è un investimento molto importante